Prende il via la nuova edizione di Lezioni d'Europa. Il format ideato dall'Università di Siena è realizzato in collaborazione con un gruppo di centri Europe Direct, tra cui Roma Innovazione, operativo presso il Formats. Sono nove webinar a cadenza settimanale, aperti a chiunque voglia approfondire temi cruciali dell'Europa unita, con autorevoli studiosi, esperti e analisti. Questi gli argomenti che verranno trattati. Le opportunità di finanziamento messe a disposizione dall'UE, le scelte compiute nell'attuale scenario internazionale e continentale, con un focus sulla Brexit e sull'allargamento ai Balcani occidentali, l'applicazione del Green Deal, le azioni messe in campo dall'UE per fronteggiare siccità e degrado urbano, fino ad arrivare ad analizzare il modo con cui l'Unione Europea affronta le sfide e le opportunità dell'intelligenza artificiale. Il ciclo di lezioni si concluderà il 18 aprile con un webinar sulle implicazioni legate all'elezione diretta del Parlamento Europeo, che ci vedrà a protagonisti a giugno di quest'anno. Il calendario degli incontri e modalità di partecipazione sono reperibili in descrizione.